Buongiorno, sono Carmine, sono un venditore smart di Mercedes-Benz Merbach e oggi vogliamo presentarvi lo Smart Center di Piazza 24 Maggio in zona dei Navigli, il più storico di Milano. Prego! Io e il Team Merbach vi aspettiamo qui in Piazza 24 Maggio, in Darsena, nella zona dei Navigli, appena di fuori dall'area C. A presto!